Maria Lucia Revisore-Porto Vi capita mai, quando siete al supermercato o in fila alla cassa, di sbirciare nel carrello di chi vi precede? A me capita qualche volta. È come fare una piccola incursione nella vita di quella persona. Quello che mettiamo nel carrello dice molto di noi, delle nostre abitudini, delle nostre preferenze, delle nostre scelte. E ci lascia intuire anche molto sul nostro impatto ambientale. Quando facciamo la spesa mettiamo nel carrello prodotti e cibi di cui conosciamo il prezzo, ma di cui raramente conosciamo il costo ambientale ed etico. Se conoscessimo davvero questi costi, cambierebbe il modo in cui facciamo i nostri acquisti. Se avessimo tutti gli strumenti per decidere, cominceremmo, per esempio, ad interrogarci sul peso dei prodotti animali, rispetto a quelli vegetali, orientandoci verso questi ultimi. eliminare dalla nostra routine gli alimenti di derivazione animale risulta essere un'ottima strategia per ridurre al minimo il nostro impatto sul pianeta. A dircelo sono studi di caratura e di rilevanza internazionale che derivano dal Gruppo Intergovernativo per il Cambiamento Climatico, la FAO, l'Università di Oxford, che nel 2018 ha pubblicato un report guidato dal professor Joseph Poore che ha letteralmente fatto il giro del mondo. Da più parti ci viene detto che i cambiamenti climatici non possono essere arginati senza un cambiamento delle nostre alimentazioni, senza uno spostamento verso un'alimentazione vegetale. Per muoverci in questa direzione, quindi, dobbiamo cominciare ad immaginare il veganismo come un'opportunità. Dobbiamo abbattere alcuni pregiudizi su questa scelta di vita e cominciare ad immaginarlo come una vera possibilità di cambiamento. Ma che cos'è il veganismo? E chi sono questi vegani di cui parlano tutti? Beh, il veganismo non è un regime alimentare. è uno stile di vita, è una visione del mondo, il concretizzarsi di un'interazione fra gli esseri viventi non filtrato da alcun tipo di superiorità. L'uomo non è superiore alle altre specie. L'ovvia conseguenza è quella di scegliere di non mangiare animali, di non consumare derivati animali, di non indossarli e di non appoggiare alcuna operazione di sfruttamento. nonostante non sia una dieta alimentare, l'alimentazione è senz'altro una parte consistente di questa scelta di vita e di questo voglio parlare. Proverò a rispondere a due delle affermazioni tipo più diffuse quando si tratta di scelta vegana. La prima, comprendo le tue ragioni, ma a me carne e formaggi piacciono troppo, è una questione di gusti e non ci rinuncerei. Questa affermazione in genere fa leva sul concetto di gusto personale, che in quanto tale non può essere messo in discussione. Ma siamo proprio sicuri che possiamo concederci il lusso di immaginare il cibo come una mera scelta personale, innocua e senza conseguenze? La risposta è no. Abbiamo invece una grande responsabilità rispetto a ciò che mettiamo nel piatto e abbiamo anche dati molto precisi che ci aiutano a quantificare l'impatto dei derivati animali. Secondo dati UNESCO, per esempio, per produrre un solo chilo di carne di manzo servono più di 15.400 litri d'acqua. Il che significa che per portare in tavola una bistecca da 300 grammi servono più di 4.600 litri d'acqua. L'equivalente di 31 vasche da bagno piene fino all'orlo. È come se io mi lavassi i denti e poi lasciassi aperto il rubinetto a massimo flusso per le successive dieci ore. Secondo la FAO, inoltre, un quarto delle terre emerse è occupato da allevamenti, campi agricoli per la produzione di cereali e soia da destinare ai mangimi per gli allevamenti, impianti di produzione e confezionamento. Si tratta di una superficie pari ad Europa e Africa messi insieme. E per fare spazio a queste terre, a questi impianti da immettere nelle filiere della carne, stiamo anche distruggendo le foreste, i principali polmoni verdi della terra in grado di assorbire CO2. stiamo perdendo le foreste ad un ritmo dell'equivalente di un campo da calcio ogni minuto. Questi dati, quindi, ci dicono che non solo ciò che mettiamo nel piatto non è senza conseguenze, ma che ha ripercussioni su tutto il sistema terra. Esiste poi una seconda obiezione alla scelta vegan, ed è comprendo queste tue ragioni, ma onestamente diventare vegani mi sembra un po' estremo. Per rispondere a questa affermazione vi racconto la mia storia, il mio percorso di come sono diventata vegana. Dieci anni fa mi trovavo a Barcellona, e mentre camminavo per le vie della città mi sono imbattuta in un gruppo di attivisti vegani che mostravano le dinamiche di produzione della carne. Ciò che mi colpì è che la loro protesta era silenziosa, non dicevano una parola, ma in un silenzio raggelante proiettavano sul muro esterno di una casa le immagini dell'interno di un mattatoio. Erano immagini di una routine giornaliera di lavorazione. Ordinaria amministrazione, si direbbe, ma di fatto era un bagno di sangue. La mia prima reazione a quelle immagini respingenti fu quella di voltarmi dall'altra parte per non guardare, ma nonostante io abbia visto quelle immagini solo per pochi secondi, un'idea potente ha messo radici nella mia mente e non mi ha più abbandonato. C'è troppo che non conosciamo rispetto al modo in cui il cibo arriva sulle nostre tavole, rispetto persino a ciò che consideriamo cibo. Da quel momento ho cominciato una mia personale rivoluzione eliminando gradualmente carne, pesce, latte e tutti i derivati animali. Ma perché vi racconto questa storia? E perché tiro in ballo anche l'aspetto etico della produzione di derivati animali? In fondo alcuni potrebbero pensare che le istanze di natura etica hanno poco a che vedere con il cambiamento climatico. Invece no, ne parlo perché in questa storia c'è la radice del problema. E il problema è il nostro ruolo in un sistema di produzione e consumo che legittima lo sfruttamento degli animali e delle risorse naturali. La concezione che abbiamo introiettato di essere in cima ad una piramide di predominio e non all'interno di un ecosistema è il motivo per cui oggi ci troviamo qui ad arginare anche questa crisi climatica. è l'idea che tutto sia nostro uso e consumo che ci ha condotti qui ad affacciarci sul baratro con un countdown che incombe. La chiave è proprio quella di smantellare l'idea di essere all'apice di una piramide di predominio e cominciare ad immaginarci invece come parte di un sistema complesso all'interno, non all'apice. quindi per tornare alla domanda iniziale essere vegani è una scelta estrema? No. È una prospettiva dalla quale possiamo vedere la realtà con occhi nuovi e dalla quale possiamo ripartire. Ogni minuto nel mondo vengono macellati 300.000 animali. Sono 4.576 ogni secondo. Lo ripeto, in un secondo 4.756. Questo è estremo e non necessario. Noi facciamo nascere miliardi di animali per immetterli nelle filiere della carne. Riduciamo esseri senzienti in beni di consumo. Questo è estremo. È dura accettare questi aspetti. Toccano delle corde molto profonde e vanno a toccare anche tradizioni alimentari consolidate e per questo danno anche fastidio, lo so. Ma il punto è proprio questo. Dobbiamo capire come ricollocarci nel sistema naturale, come generare quella nuova normalità di cui tutti parlano. Se ci orientassimo verso un'alimentazione vegetale, riprendendo le parole dello scienziato Joseph Poore dell'Università di Oxford, noi metteremo in campo uno dei sistemi più efficaci per arginare la crisi climatica. E non solo in termini di emissioni di CO2, ma anche in termini di acidificazione del suolo, eutrofizzazione delle acque, uso delle terre, uso dell'acqua. Passiamo all'azione dunque. E da dove cominciamo? Beh, innanzitutto dalla consapevolezza che ad un livello personale noi possiamo incidere molto. Possiamo decidere di escludere i derivati animali dalla nostra alimentazione, scegliere con cura cosa mettere nel carrello e cosa portare nelle nostre tavole. Possiamo decidere di riformulare il concetto di tradizione culinaria, smantellando il dogma del abbiamo sempre mangiato così, magari rivalutando l'enorme patrimonio vegetale della nostra terra. Le nostre scelte alimentari tracciano una specifica direzione ed esprimono anche una volontà molto precisa. E di questo dobbiamo essere consapevoli. Quindi la prossima volta che al supermercato, in fila, alla cassa, magari annoiati andremo a sbirciare il carrello del nostro vicino o riguarderemo il nostro, prendiamoci qualche minuto per pensare a cosa stiamo portando sulle nostre tavole, nelle nostre case. Noi possiamo guidare il sistema verso una maggiore sostenibilità. e per farlo dobbiamo dare una svolta vegetale al nostro sistema alimentare, per gli animali in primis, per l'impatto ambientale e quindi anche per noi stessi. Grazie. 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 Grazie.